Sono Roby Formento, ho creato Natska negli anni 87, ho iniziato a fare snowboard negli anni 84-85. In quel periodo eravamo in pochi, i corsi camp erano tendenzialmente solo con la tavola alpina, eravamo in 10-15 quando eravamo in tanti e ho iniziato a Tigna perché il ghiacciaio era bello, la stazione era molto amica, quindi ci forniva tutto quello di cui avevamo bisogno e quindi abbiamo cominciato qui a fare i primi camp. Poi siamo successivamente passati alle Desalpes, un paio d'anni dopo, quindi negli primi anni 90-80 abbiamo iniziato anche alle Desalpes. I got a girlfriend that's found a death, she has a smoke in her eyes. I got a girlfriend that's found a death, she has a smoke in her eyes. She's gonna give me a surprise. Ancora Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.